di Favaretto, altro ottimo giocatore della Rosa Veneta, bello il pallone per Iglesias, attenzione in mezzo rete, vantaggio della Camedosson, vantaggio di Sturlese dopo 5 minuti e 18 secondi. Prato che non può fare altro che cercare di chiudere i varchi naturalmente. Prova la Camedosson a impostare con calma, attenzione Laino, c'è questo pallone rete con una carambola cramorosa, subito il raddoppio, forse Favaretto, superiorità numerica la Camedosson ha raddoppiato. E allora vediamo un po' cosa riusciranno a fare questi grandi biancazzurri che vengono da 16 risultati utili consecutivi, parte Di Lauro, il tiro, la palla è dentro, e la palla è dentro, crediamoci ragazzi! Di Lalla su Quattrini, insiste il Prato, Di Lalla, Cristoforetti, di prima, deviato, in tiro, rete! Rete! Rete!